carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato alle virtù teologali e cardinali e ai vizi capitali che oggi ci vede aprire il capitolo della bella e nobile virtù cardinale della fortezza la terza virtù cardinale di cui ci stiamo a parlare questa sera una virtù molto molto bella una virtù per la quale come sappiamo c'è un sacramento ad hoc per conferircela e rafforzarcela in modo particolare che appunto il sacramento della confermazione una virtù molto importante come tutte le virtù sono tutte importanti e sempre attuali ma forse in questo in questi tempi che stiamo vivendo l'approfondimento di questa virtù è particolarmente importante perché sono tempi in cui certamente è necessario essere molto forti e quindi vedremo speriamo ecco che anche la conoscenza di questa virtù e delle sue importantissime parti possa aiutarci ecco nella nostra buona battaglia della fede nel nostro combattimento spirituale sappiamo bene che la vita cristiana secondo antichissima tradizione fondato sull'epistolario paolino è milizia quindi è vita militare vita di combattimento certamente non è un combattimento come dice san paolo contro avversari fatti di carne di ossa ecco ne si deve togliere la vita a nessuno caso mai cristiani la vita come vedremo non è che la che che la tolgono ma offrono la propria come il loro maestro e signore tuttavia certamente c'è la dimensione del combattimento della milizia della lotta nella vita cristiana che proprio con una dimensione strutturale e costitutiva per lottare bisogna essere attrezzati bisogna essere armati bisogna essere forti questa virtù serve a questo partiamo dalla definizione di alcuni grandi pensatori pagani sappiamo che le virtù cardinale l'abbiamo detto diverse volte non sono esclusive di noi cristiani erano conosciute anche in ambito pagano questa soprattutto insomma no cicerone marco tulli cicerone il grande oratore romano la definì come il deliberato esporsi a pericoli e disagi mentre un altro grande pagano che era andronico disse che la fortezza è la virtù dell'irascibile spero che ci siamo familiarizzati con questo vocabolario un vocabolario un pochino classico irascibile era secondo il vocabolario classico una delle due parti in cui è suddivisibile l'anima sensitiva cosiddetta quindi quella che poi san tommaso preferisce chiamare la parte inferiore dell'anima quindi la virtù dell'irascibile quindi quella dove risiedono le passioni appunto dell'irascibile le cinque passioni dell'irascibile che non si lascia spaventare dal timore della morte quindi timore della morte esporsi a pericoli e disagi elementi costitutivi di questa virtù individuati già dai pagani ora fondamentalmente la virtù della fortezza ha come oggetto la rimozione degli ostacoli a compiere il bene causati dalla presenza di difficoltà serie gravi estreme in alcune circostanze in ogni caso incombenti e che trattengono la volontà impetendole di agire anzitutto lo spauracchio più grande il pericolo della morte ma anche il timore di altri danni o guai che potrebbero derivare dall'operare secondo virtù questa operazione la virtù della fortezza la compie reprimendo il timore perché si è vinto e superato quindi questa virtù aiuta a vincere la paura e al tempo stesso moderando l'audacia ecco perché come in tutte le virtù si può peccare mancare a questa virtù per difetto appunto quando uno non agisce per paura ma anche per eccesso quindi quando uno agisce pensando di dover essere forte ma in realtà agendo in maniera sconsiderata perché non ponde adeguatamente la situazione e quindi in nome della fortezza presunta dimentica la prudenza prudenza che però non deve mai diventare viltà quindi capiamo bene che l'esercizio delle virtù presenta queste difficoltà che non sempre è facile nella situazione concreta discernere l'atto da porsi e qui ci vuole l'aiuto dello spirito santo oltre che comunque quello che può fare e cerchiamo di fare attraverso una buona formazione ora l'atto proprio principale della virtù della fortezza è dunque resistere al pericolo vincendo il timore e l'atto secondario e subordinato è regolare l'audacia qual è la più importante manifestazione della virtù della fortezza domanda semiretorica è certamente l'atto di fortezza per antonomasia è il martirio cosa succede con il martirio? per il martirio un cristiano preferisce farsi uccidere che tradire la verità cioè la fede o rinnegare la giustizia compiendo in questo modo il più perfetto degli atti umani in quanto massimo segno dell'ardente carità come disse Gesù nel Vangelo di San Giovanni nessuno non muore più grande di questo dare la vita per i propri amici ora il timore amici miei e penso che l'abbiamo ampiamente imparato in questi tempi difficili che stiamo vivendo è la passione che più propriamente può definirsi tale insieme alla tristezza e quindi difficilmente vincibile quando ci prende la paura è difficile la paura è una catena proprio fondamentale molto difficilmente superabile la passione più difficilmente vincibile un'altra attenzione a non farsi prendere da questa è la tristezza mai soccombere sotto il peso della tristezza ora la fortezza conferisce una tenacia invincibile chiamata anche nel parlare comune fermezza nel perseguire il bene di fronte a tutti i timori compreso il più grave che è quello della morte e quindi anche dinanzi a tutte le altre possibili forme di sofferenza fisica i dolori corporali o spirituali non esistono soltanto le sofferenze fisiche esistono le sofferenze spirituali interiori che possono essere più grandi quante volte una persona è trattenuta dalla giro o dal compiere un atto pur riconoscendolo come necessario o dovuto perché? perché ha paura di non essere capito ha paura di essere criticato ha paura di rimanere solo ha paura di essere abbandonato ha paura di ritrovarsi da solo contro tutti non sono peggio questo o peggio la prospettiva della sofferenza fisica o della morte dipende qui anche dai dai caratteri ora questa virtù dice Sant'Ommaso anche se ordinariamente l'uomo forte prevede i pericoli e si prepara ad affrontarli cosa che è sempre la cosa migliore da fare l'abbiamo visto credo anche in questi tempi difficili i tempi di prova i tempi difficili se ci trovano impreparati corrono il rischio di farci soccombere ora le sveglie mi si passi il termine che abbiamo preso negli ultimi due anni quindi con penso che abbiamo che tutti quanti sappiamo che abbiamo assistito a cose che non avremmo mai pensato di vedere qualcuno pensa che sia finita o che stia per finire io ritengo questo discorso improntato ad estrema ingenuità ecco forse queste sono state come dire soltanto come dire avete visto no le prime schermaglie di una battaglia in corso quindi chi esce da questa prima fase con le ossa rotte beh innanzitutto tragga come dire insegnamento da quello che ha vissuto e cerchi di prepararsi perché siamo ancora in tempo ma il combattimento non è terminato non è neanche cominciato non è anche entrato nel vivo a mio avviso cioè questo botto diciamo così epocale dei tempi che stiamo vivendo quindi è sempre prudente prepararsi ad affrontare rischi e pericoli tuttavia dice Sant'Omaso che la virtù della fortezza si manifesta soprattutto nei casi imprevisti cioè quando tu ti trovi dinanzi ad una ad uno scenario imprevedibile e per grazia di Dio reagisci in maniera consona adeguata l'uomo forte propriamente evidentemente non gode nel compiere gli atti di fortezza in che senso? se una persona viene ammazzata non è che mentre viene ammazzata gode se una persona viene incarcerata non è che quando sta in carcere gode se una persona viene percossa ingiuriata calunniata disonorata perseguitata ricoperta di fango di disonore di cattiva fama messa ai margini emarginata percossa insomma nel momento in cui soffre queste cose non è che contenta non è che gode però il godimento della virtù compiuta quindi la consapevolezza di aver fatto la cosa giusta dopendosi sobbarcare tutto questo carico di sofferenze impedisce all'anima di farsi vincere dalla tristezza sensibile così come di farsi sopraffare dall'incalzare dei dolori fisici come accennato si può mancare a questa virtù abbiamo già detto attraverso il troppo il troppo poco per difetto o per eccesso da questo derivano anzitutto i vizi opposti alla virtù della fortezza in quanto tale non è tanto difficile capirli il primo è la viltà o paura in senso to cure e l'altro è l'audacia o temeralità la viltà è peccato evidentemente quando è disordinato cioè quando per paura di certi mali l'uomo si astiene dal perseguire dei beni che devono essere perseguiti secondo secondo sant'ommaso è peccato veniale la viltà quando la volontà non dà il consenso quindi si agisce impauriti per debolezza mentre è mortale quando la volontà dà il consenso tralasciare per paura una cosa che è comandata per precetto quindi per esempio l'osservanza della legge di Dio dice sant'ommaso e qui bisogna fare attenzione alle tipologie varie che possono presentarsi che non c'è peccato quando si tollera un male minore per sfuggire ad uno maggiore esempio classico si lascia per conservare la propria vita si lascia che i ladri rubino davanti ai propri occhi immaginiamo che vengono i ladri dentro casa che faccio e li impedisco di rubare col pericolo che mi ammazzano per paura di perdere la vita li lascio rubare ma qui non c'è peccato perché sto tollerando un male minore per sfuggire un male maggiore o invece attenzione altro è tollerare altro è accettare un male maggiore per evitare un male minore in questo caso si è peccato ma solo veniale perché tutte le volte che noi agiamo per paura la paura 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 e questo ringraziamo il Signore che sia così la presenza di questa passione diminuisce enormemente la volontarietà perché la volontarietà quando noi siamo pressati dal terrore dalla paura la volontarietà piena è quando io come noi come notano quando io liberamente e spontaneamente scelgo di fare una cosa potendo fare il contrario quindi non avendo una pressione quindi né una minaccia né una violenza e nemmeno questa pressione grande della paura quindi attenzione diminuisce enormemente la volontarietà ma evidentemente non scusa completamente dal peccato veniale quindi veniale sì ma sempre peccato in certi casi come abbiamo visto inizialmente l'audacia o temerarietà è la mancanza di retta considerazione dei pericoli generalmente i temerari dice Sant'Omaso sono baldanzosi ed impetuosi prima che sopravvengano i pericoli poi quando arrivano però scappano i forti fanno esattamente il contrario nel senso che sanno regolare l'impeto nell'affrontare le cose ostili proprio dell'audacia e quando invece poi i guai arrivano sono in grado di reagire di sostenerli o molto affine all'audacia è una cosa ancora peggiore che la spavalderia ossia il vizio per mezzo del quale non si teme ciò che va temuto non è essere forti non temere nulla dice Sant'Omaso ma colui che sa vincere il timore perfino il più grande in nome della virtù da compiere d'accordo alcune cose certamente sono da da temere pensiamo il santo timor di Dio temere il giudizio di Dio quanto è importante bene andiamo avanti la fortezza a quattro parti integranti secondo Sant'Omaso d'Aguino quindi è una virtù quadriforme e sono la magnanimità la magnificenza la pazienza e la perseveranza e la perseveranza andiamo a vedere insieme la magnanimità avere un animo grande è la tensione della volontà verso il conseguimento di cose grandi e degne di particolare onore la fortezza fa fare le cose in grande secondo Sant'Omaso d'Aguino il magnanimo ha cinque proprietà uno non ricorda i benefici ricevuti perché largheggia nel conto al cambiare e nel dare eccellendo nella gratitudine questa è una virtù veramente meravigliosa a mio avviso è la magnanimità secondo è ozioso e tardo nel senso che non è il senso negativo cioè uno che è ozioso e tardo generalmente dice mamma mia ma è ozioso e tardo nel senso che lui non vuole perdere tempo e intromettersi in ogni faccenda nemmeno che la riguardi ma si occupa soltanto delle cose eccellenti delle cose importanti ed eccellenti il magnanimo si serve dell'ironia dice anche Sant'Omaso d'Aguino poiché c'era la sua grandezza ovviamente senza mentire né simulare perché mentire e simulare sono peccati facendosi modesto davanti al prossimo non sa convivere se non con gli amici veri perché rifugge ed abborrisce l'adulazione e la simulazione quarta caratteristica preferisce le cose infruttuose a quelle belle fruttuose nel senso che persegue ed antepone sempre e comunque ciò che è bene a ciò che è utile tra le bellissime dotazioni del magnanimo ecco che è veramente una persona ammirevole e ammirabile tra le dotazioni del magnanimo rientra anche la fiducia la fiducia nel senso che è una persona ottimista nel senso che ha la speranza ferma e tenace di conseguire quelle cose grandi e degne di onore che si propone e inoltre ha la sicurezza cioè quell'attitudine interiore grazie alla quale non si cede né davanti al turbamento dell'animo né agli uomini né alla sfortuna o a questa splendida virtù la magnanimità si oppone anzitutto la presunzione che è l'atteggiamento vizioso di chi intraprende cose grandi ma come dice il salmo 130 superiori alle sue forze mentre il magnanimo non lo fa mai e cede senz'altro nella grandezza delle cose perseguite ma non nel ponderare la proporzione di esse alle proprie capacità ricordiamo i passi del Vangelo no? chi di voi volendo costruire una torre non si siete prima a vedere se ha i mezzi per portarla al compimento dice Gesù chi di voi andando in guerra contro un esercito di 30.000 persone non si fa un po' di conti e vede se c'è soldati sufficienti per poterla affrontare e vincere ecco il magnanimo fa questa operazione il presuntuoso no e il presuntuoso si sfracella poi regolarmente non è presunzione cercare di compiere azioni virtuose attenzione è sotto il pretesto del fatto che l'uomo senza l'aiuto della grazia non può compiere dice ma io senza l'aiuto di Dio non posso fare niente quindi non mi imbarco in questa cosa no perché dice San Tommaso che ciò che si può con l'aiuto di altri e certamente l'aiuto di Dio non manca mai quando si tratta di fare qualche cosa bella e grande in suo nome per suo amore se si può con l'aiuto degli altri vuol dire che in qualche modo è in potere della gente il giusto e il santo non hanno bisogno che nessuno glielo ricordi che senza la grazia di Dio non si può fare proprio niente di buono ma niente 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 come dice Gesù nel Vangelo senza di me non potete fare nulla ma sanno anche però attenzione che dobbiamo temperare che la grazia non manca mai a chi la chiede si dispone a riceverla e usa i mezzi prega sta vicino ai sacramenti e quindi i santi si regolano sempre secondo il celebre adagio di Sant'Ignazio di Loyola mai sufficientemente meditato fa come se tutto dipendesse da te sapendo che niente dipende da te un'altra caratteristica della presunzione è non seguire l'ordine nelle fasi di crescita nella virtù e quindi agire sconsideratamente senza la legge della gratualità per esempio per fare un esempio un principiante non si può ammettere a fare le opere di benitenza che facevano i grandi santi tipo una santa Veronica Giuliani una santa Margherita ma dove fai cioè non è escluso che crescendo il Signore ti chiederà anche a te gesti penitenziali impegnativi significativi ma ci arrivi piano piano altrimenti veramente diffuso perché la presunzione di salvarsi senza meriti presume della divina misericordia quindi siccome Dio è misericordioso alla fine in paradiso ci vanno tutti perché ti pare che nella sua misericordia il Signore permetta che qualcuno vada all'inferno sono questi diciamo i ragionamenti un po' fallaci che si fanno e oggi come sappiamo vanno molto di moda ahimè con grandissimo danno delle anime perché di San Giovanni Bosco che una vana e falsa fiducia nella divina misericordia quindi stravolta e deformata non serve a nient'altro che a accrescere il numero delle anime che vanno a finire all'inferno non sia mai come un attributo così bello dell'Altissimo il più grande e il più santo da strumento indispensabile per la nostra salvezza perché senza la divina misericordia saremmo tutti quanti spacciati non diventi però poi lo strumento della nostra condanna questa è un po' come l'eucaristia che è il sacramento dei sacramenti è il paradiso sulla terra purché non la facciamo trasformare in nostra condanna quando ci acconsiamo ad essa indegnamente no? Ora alla vagnanimità si oppongono anche l'ambizione la vana gloria e la pusillanimità andiamo a vedere nel dettaglio anche queste cose voi capite che quando si vanno a vedere i vizi direttamente opposti ad una virtù poi a contrario si capisce ancora meglio il contenuto della virtù stessa per questo che San Tommaso è sempre molto puntuale in queste sue disamine l'ambizione è la brama disordinata dell'onore ed ha tre specie l'ambizioso mentre il magnanimo è una persona meravigliosa l'ambizioso è una persona spreggevole l'ambizioso cerca l'onore per un'eccellenza che non ha oppure non riferisce qualche eccellenza che ha alla sua fonte unica che è Dio oppure non ordina le proprie eccellenze al bene altrui capiamo quindi mai cercare gli onori il Signore ci ha raccomandato nelle sue parabole mettiti sempre all'ultimo posto ma non per mettiti punto e basta lascia che siano sempre altri a dire qualcosa di buono di te se qualcosa c'è da dire e se lo dovessi sentire ricordati sempre di attribuire quel buono che c'è in te alla fonte perché da noi e in noi di buono non c'è proprio niente io se posso fare un augurio vuoi dire che brutto augurio questo è un bellissimo augurio ai miei amici come dire persone che gradiscono ascoltare queste piccole condivisioni che cerco di fare al massimo possibile per aiutare qualche anima sperando di riuscirci io però faccio un grandissimo augurio possa il Signore farti capire proprio darti quella convinzione profonda intima e sapienziale che tu sei proprio un nulla ma questo non fa venire la depressione perché noi siamo un nulla abitato dal tutto e nella misura in cui noi ci sentiamo questo nulla veramente diciamo come quel popolare canto dell'offertorio ecco il nostro niente prendilo Signore ma che ti posso offrire nella misura in cui ti senti così il Signore apre le caterate delle grazie e potenzia la tua persona ti dà tutto quello che è necessario per fare tanto bene ma stiamo stiamo lontani come dalla peste bubonica da questa schifezza che è l'ambizione oh non parliamo poi della vana gloria la gloria la gloria è una certa chiarezza splendore pubblicamente riscontrabile lodata a cui l'uomo naturalmente tende per cui il desiderio della gloria di per sé non è certamente un mare noi in paradiso se ci andremo raggiungeremo la gloria la gloria come dice il Signore ciascuno lì avrà la sua lode da Dio preoccupiamoci sempre come dice il buon San Francesco cioè io in quello che faccio in quello che penso in quello che dico in quello che vivo devo essere sempre preoccupato di una cosa ma il Signore Gesù che pensa di me che penserebbe disapprova approva non sempre possiamo esserne sicuri però su alcune cose un pochino più grosse non molto appunto non molto grossolane beh se ci interroghiamo profondamente io credo che ci possiamo arrivare un po' no a quello che il Signore approva o disapprova dobbiamo sempre pensare che ci troveremo davanti a Lui e se e se mi ci trovassi oggi che che gli dico che gli racconto come va come sto cercando di vivere sarei pronto adesso andare davanti a Lui oh quindi cerchiamo la gloria che viene da Dio solo dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni non prendiamo gloria gli uni dagli altri ed ecco la vana gloria la gloria è vana dice San Tommaso c'è inutile sotto tre aspetti numero uno per il suo aspetto quando si cercano lode in cose fragili e caduche le piccole stupidaggini di questo mondo pensate qua a quanta gente no in realtà piccole come quelle in cui sto vivendo insomma in realtà di paese queste cose si vedono no quindi quando qualcuno fa qualche cosetta diciamo così qualche evento diciamo così folcloristico o cose di questo genere no per carità cose carine che ti possono far come dire che contribuiscono come dire a un certo benessere anche della vita sociale della comunità ma sono cose piccole sono possono diventare come dire casi di stato chi conosce chi ha vissuto in ambienti di questo genere capisce no quindi è vana quando si cercano lode in cose fragili e caduche oppure quando è ricercata presso gli uomini cercare la grona che viene dagli uomini cosa pensano gli altri di me il giudizio di gloria degli uomini non è certo anzi è sempre fallace e imperfetto per tantissime motivazioni chiunque ci guarda anche chi guarda me io questo lo so molto bene non conosce il nostro interno non conosce il nostro interno per cui ti dice bravo ma sei sicuro che tu sei bravo perché per essere bravo non serve non basta quello che fai esternamente bisogna vedere come lo fai perché lo fai per chi lo fai poi lo lode degli uomini amici miei è fallace ed è incostante sapeste quante persone che capite da grandi lodatori improvvidi perché non c'è niente da lodare si possono facilmente trasformare in micidiali detrattori ma micidiali detrattori in un battibaleno quindi il giudizio di lode degli uomini è sempre fallace e imperfetto sempre per cui non dobbiamo dargli nessunissima considerazione zero ricordando sempre che anche se tutti quanti ti lodano il Signore non approva quello che tu dici che pensi che fai quella lode non serve a niente ma se tutti invece al contrario ti danno addosso ti denigrano ti giudicano ti reputano il peggio del peggio e quello che va è che tu fai Dio lo approva tu sei un grande infine infine il fatto che la lode la gloria è vana quando non è ordinata al debito fine cioè all'onore di Dio e al bene del prossimo per esempio può essere un peccato mortale la vana gloria quando dice San Tommaso cade su un oggetto direttamente contrario all'amore di Dio per esempio preferire i beni temporali alle eterne ricompense la parabola dell'uomo stolto di quello che accumulava e Gesù gli dice stolto questa notte ti sarà richiesta conto dell'anime che ci fai con tutto quello che è accumulato oppure la testimonianza degli uomini è quella di Dio Gesù nelle sue polemiche con i farisei storiche del Vangelo di Giovanni voi prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo e fate le opere del Padre vostro che è il diavolo la gloria degli uomini siamo non lontani come dalla peste bubonica amici miei la testimonianza degli uomini non è importante è importante la testimonianza di Dio quindi può essere un peccato mortale quando cade su uno di questi oggetti oppure quando la gloria sia realmente il fine ultimo dell'agire quindi agire solo per ottenere gloria proprio e personale e questo solo il diretto interessato lo può sapere ecco perché il cuore dell'uomo è insondabile fuori di questi casi estremi la vanagloria è un peccato veniale vanagloria che peraltro a sua volta ha sette figlie la millanteria cioè chi aumenta la parvenza di eccellenza con parole false è anche il reato di millantato credito al riguardo la pretesa di novità quindi quando si hanno atteggiamenti originali tali da attirare l'attenzione pensiamo oggi quanta questa cosa sia diffusa e tra l'altro la pretesa di novità che quasi sempre basti pensare alle esibizioni di un certo festival italiano insomma che vanno sempre a finire in performance scandalose a forza di voler stupire con qualcosa di nuovo l'ipocrisia quando si ostentano atteggiamenti esterni falsi che però sono lodati era il caso dei farisei che si atteggiavano da santi senza esserlo la pertinacia o la difesa ostinata delle proprie idee il rifiuto di accettare un consiglio altrui la pertinacia chi ha la testa dura che è impossibile aiutare non si fa aiutare e te tragono sapeste un povero prete come me quante volte si è imbattuto in situazioni di questo genere e con quanto dolore non poter aiutare una persona per la sua pertinacia la discordia quando si rifiuta di abbandonare i propri pareri in nome della comunione ovviamente come sappiamo la comunione deve essere sempre comunione evidentemente nella verità e non può essere mai comunione nella menzogna perché quando la verità non c'è vale il discorso del Vangelo io non sono venuto da portare alla pace ma una spada quindi le polemiche la contesa la polemica con il prossimo e la disobbedienza propria della vana gloria il rifiuto cioè di obbedire ai legittimi ordini di chi ha il potere di darceli ovviamente evidentemente attenzione ordini legittimi quindi nei limiti della competenza di chi ti dà nella conformità oggettiva alla legge di Dio nella loro giustizia intrinseca ora la pusillanimità che è il contrario della presunzione invece è l'atto spreggevole del pusillanime che appunto rifiuta ritendere per paura abilità alle cose ardue che sarebbero comunque proporzionate alle sue forze chi è il pusillanime per l'antonomasia se vogliamo sempre guardare il Vangelo il servo che nasconde il talento sotto terra misconoscendo le proprie capacità quindi effetto molto comune della pusillanimità pertanto è la pigrizia unitamente all'accidia al bruttissimo vizio di cui parleremo tra non molto e l'ignavia il servo fa nullone viene gettato nell'inferno dice Gesù ricordiamo anche i danteschi gironi degli ignavi attenzione che l'ignavia che è il non fare ciò che si potrebbe dovrebbe quando questa cosa verte su cose gravi e importanti può addirittura compromettere l'eterna salvezza attenzione a questo vizio vediamo le altre tre parti della virtù cardinale della fortezza che sono come abbiamo visto la pazienza anzitutto la magnificenza la pazienza e poi la perseveranza la perseveranza la vedremo nelle due sfaccettature della costanza e della perseveranza allora la magnificenza come dice il nome stesso latino magnum facere fare qualcosa di grande ecco consiste nel progettare ed eseguire cose grandi sublimi e molto dispendiose con splendidezza e ampiezza di disegno e proposito questa virtù ha per oggetto le grandi spese fatte in vista di grandi opere in onore di Dio ed è grande virtù perché ha come presupposto una grande moderazione dell'attaccamento al denaro qual è il gesto evangelico magnificente per antonomasia Maria Maddalena che qualche giorno prima della passione di Gesù spacca il vasetto di nardo preziosissimo 300 denari e cosparge il capo le mani i piedi di Gesù 300 denari io dico sempre insomma il denaro è la paga di un operaio quotidiana vuol dire quasi lo stipendio di un anno quindi sono per un'operazione di qualche secondo insomma 15.000 euro potremmo dire oggi facciamo che 50 euro al giorno sono la paga di un operaio 300 denari fa presto a fare i conti le cose fatte per amore di Dio si fanno in grande pensiamo al santo curato d'Ars per esempio per quanto riguardava se stesso se uno va a vedere la canonica le scarpe le talari tutte stracciate tutte quante mai paramenti sacri l'ho raccontato tante volte quando andava a comprare paramenti sacri calici c'era sempre il top del top tanto è vero che la gente si preoccupava dice ma sto straccione ce l'avrà i soldi per pagare se sta pianeta che costa che ne so 5.000 euro con l'equivalenza di oggi ce l'ha ce l'ha per il Signore questo è d'altro per me no ma per il Signore questo è d'altro pensiamo anche a certa sciatteria di oggi giustificata con la povertà evangelica e con l'amore alla semplicità e all'essenzialità semplicità essenzialità nelle cose del culto si vedono calici di legno o cose di questo genere camici che sembrano stracci ma vesti liturgiche proprio di basso spessore di bassa qualità poi però magari a volte si vede anche qualche macchinone insomma è esattamente il contrario del santo curato d'Ars no? il santo curato d'Ars non ce l'aveva il macchinone stiamo tranquilli ma sicuramente non usava il calice di legno per celebrare l'Eucaristia stiamo proprio tranquilli quindi e attenzione perché al termine di questo percorso noi ci accorgeremo di una grande cosa cominciamo ad avere un pochino di discernimento perché l'arte del diavolo è presentare il vizio come virtù e la virtù come vizio e oggi dentro il nostro contesto sono tante le virtù camuffate tante invocate a sproposito a sproposito adesso ho fatto degli esempi neutri si potrebbero fare degli esempi molto molto più significativi quindi la magnificenza ovviamente la magnificenza è il giusto mezzo tra i due eccessi che ne rappresentano i vizi opposti cioè la grettezza o a Roma lo chiamano il pulciaro d'accordo o lo spilorcio il taccagno che consiste nella eccessiva preoccupazione di spendere poco in relazione alla gradezza delle opere da compiere e poi c'è l'eccesso che lo sperpero che oltrepassa senza adeguata motivazione la giusta proporzione tra spesa ed opera da compiere la magnificenza poi grandissima virtù poi è la pazienza la pazienza la pazienza che ci porta in cielo disse la Madonna oggi è 13 luglio oggi è proprio 13 luglio oggi è l'apparizione di Fatima dove furono rivelati i famosi tre segreti il primo dei quali è l'esistenza dell'inferno la Madonna disse a la piccola giocinta tanta pazienza perché la pazienza ci porta in cielo cos'è la pazienza la pazienza ha avuto varie definizioni ancora la prima è Cicerone grande saggio romano che definiva la pazienza la volontaria e prolungata sopportazione di cose ardue difficili motivate da un fine utile e onesto poi c'è stato Sant'Agostino cos'è la pazienza sopportare con animo sereno i turbamenti della tristezza che scoraggiano nella corsa verso il bene e San Gregorio Magno sopportare con animo sereno i mali che ci vengono dagli altri come tutte le definizioni sono sempre ciascuna coglie un punto mettiamole tutte insieme per evincere un po' le caratteristiche di questa bellissima importantissima virtù grazie a questa virtù si accetta ogni dolore e privazione in vista dell'amore di Dio e del godimento di Lui tutto si sopporta tutto si sopportano le tristezze che scoraggiano nella corsa verso il bene molto difficile da sopportare si sopportano i mali che ci vengono dagli altri tradimenti partacce difetti altrui incomprensioni e poi anche la volontaria per il prolungato di sopportazione di cose altrui difficili gli affanni della vita le fatiche della vita il caldo il freddo la malattia la scomodità la precarietà sono tante le cose ora una virtù strettamente connessa alla pazienza è la longanimità bellissime cos'era la longanimità è la capacità di attendere alla dilazione nel tempo del bene sperato che è il contrario del volere tutto e subito noi siamo longanimi per antonomasi amici miei perché noi investiamo tutto quanto sul paradiso se mi si passa un'espressione di quando studiavo io dico sempre scherzando che Dio conosce solo la macroeconomia non conosce la microeconomia economia politica perché la macroeconomia studia sempre le leggi economiche e affini sul lungo periodo e noi qui siamo tutti sul lungo periodo i cristiani sono tutti sul lungo periodo non sono mai al breve periodo sempre a lungo noi investiamo sul futuro bellissime importantissime virtù la longanimità gemella della pazienza poi c'è un'altra cosa che è a metà tra la pazienza e la perseveranza come anello di congiunzione che è la costanza la costanza cos'è è la capacità di affrontare le fatiche e le difficoltà per compiere un'opera buona superando le difficoltà ora vedremo che la costanza dice sant'ommaso è quella cosa che ti fa resistere superando le difficoltà perché il problema della virtù è il protrarsi dello sforzo nel tempo e il superare le difficoltà la perseveranza che cosa ti fa fare ti fa andare avanti perché non è che basta essere virtuosi oggi o essere virtuosi domani qui bisogna essere virtuosi fino alla fine è l'ogorio del tempo perché il tempo il tempo fa cambiare tante cose può far cambiare tante cose ma le virtù non possono cambiare possono soltanto crescere e devono essere conservate non devono essere perse possono avere delle difficoltà non essere compiute grosse e quando restano delle difficoltà grosse bisogna essere costanti nella sacra scrittura c'è scritto detesto gli animi incostanti io ho sempre detto ribadisco qui in queste ultime parti della fortezza costanza e perseveranza ci giochiamo gran parte del nostro cammino spirituale perché se uno non è costante e perseverante non va da nessuna parte San Tommaso afferma se acutamente molto bello che Dio è paziente con quelli che peccano per malizia che in quanto tra andrebbero subito castigati mentre all'onganime con quelli che peccano per fragilità cioè aspetta che prendano meglio coscienza del male commesso e che lavorano per correggersi e demandarsi oh e vediamo finalmente la perseveranza e così concludiamo questa sera anche l'analisi di questa virtù oh attraverso la perseveranza si resiste come abbiamo già accennato al prolungamento nel tempo dello sforzo necessario a compiere il bene sia negli atti che in tutte le altre virtù quindi l'oggetto proprio a cui si resiste con questa virtù è il tempo non la difficoltà come nella costanza si frappongono degli ostacoli ci sono delle difficoltà da superare a questo ci pensa la costanza qui c'è semplicemente il tempo il logorio del tempo e quindi la perseveranza modera il timore di venire meno di stancarsi a causa del prolungarsi dello sforzo quanti cominciano bene e poi lasciano in tutto in parte la vita virtuosa tantissimi lo dico io ahimè oltre alla grazia abituale attenzione quindi che è necessaria per proporsi fermamente di perseverare nel bene per essere perseveranti insegna la chiesa è necessario un dono gratuito di dio necessario per stabilire irremovibilmente il proposito dell'impero arbitrio la perseveranza finale si legge nei decreti del concilio di trento è un dono di dio che bisogna umilmente chiedere come faceva padre pio tutti i giorni la grazia della perseveranza nella fede fino alla morte dice il concilio di trento deve essere chiesta con insistenza a dio ora i vizi opposti a questa virtù sono due anche qui uno per eccesso e uno per difetto che sono la pertinacia e la mollezza la pertinacia deriva etimologicamente dal latino impudenter tenax cioè tenace in modo impudente la persona pertinace o pervicace a colui che vuole andare avanti fino alla fine e si incaponisce anche se dovesse accorgersi che sta percorrendo una strada non buona questo non è perseverante questo è scemo perché se vedi che a un certo punto ti stai sbagliando tu devi fermarti e devi tornare indietro è la persistenza ostinata nella propria opinione personale che conduce inevitabilmente alla rovina o la mollezza invece è il vizio per mezzo del quale alla minima difficoltà si abbandona il bene e la virtù al minimo impulso di dolore alla minima mancanza di soddisfazione le anime molli ripeto non andranno non andranno da nessuna parte la ripugnanza a sopportare la fatica e lo sforzo prolungato per conseguire il bene è causa di rovina dell'anima Gesù lo maggioro ci ha detto chiaramente solo chi persevererà sino alla fine sarà salvato dobbiamo chiederlo a Dio certamente dobbiamo però anche disporci a questa virtù esercitandola praticandola e sapendo che chiudiamo con padre Pio la fede non è di chi ben comincia né di chi va avanti per un certo tempo ma di chi persevera fino alla fine ecco perché fino a quando siamo in questo mondo non ci sono processi di canonizzazione per nessuno perché può darsi anche che in questo momento storico contingente qui siamo purtroppo legati all'istante presente vanno bene le cose adesso forse andranno bene domani speriamo speriamo buona fortezza a tutti che possiamo essere sempre forti e saldi nella fede e in tutte le virtù ecco vinciamo le paure e andiamo avanti sempre io amo dire con gioia costanza e perseveranza vi benedico tutti e se Dio vuole ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti